Se avete cliccato su questo video è perché probabilmente avete una scheda madre o una scheda video non funzionanti le avete provate veramente tutte ma niente riuscito insomma a risolvere e avete l'impressione che sia un problema di BIOS corrotto beh in questo video andiamo a vedere questa che è una chiavetta mini programmatrice la CH34-1A e che serve proprio a flashare il BIOS nei casi in cui avete una scheda madre o una scheda video non funzionanti proprio a causa di un BIOS corrotto Ciao ragazzi ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Rintendero Pazzo e sì oggi siamo qui con questa chiavetta programmatrice potremmo chiamarla così che ho comprato di recente su Aliexpress pagandola veramente una cifra irrisoria praticamente tipo 6 euro spedita e perché? Perché in sostanza avevo bisogno di un qualcosa che mi riscrivesse un BIOS di una scheda madre che appunto si era corrotta perché durante un aggiornamento del BIOS il computer era crashato e quindi sostanzialmente la scheda madre era arrivata in uno stato di stasi non saprei come dirlo comunque non arrivava più a schermo proprio perché il BIOS all'interno era ormai corrotto e quindi non potevo poi andare insomma a riflesciarlo in altri modi e l'unico metodo ho scoperto che appunto era tramite questo tipo di chiavette che sostanzialmente si vanno grazie a questa mollettina fisicamente proprio dovrete andare e adesso poi lo vedremo nel corso di questo video dovrete andare a pinzare il chip del BIOS e poi grazie a un programma molto utile andare poi a riflesciare il BIOS appunto della vostra scheda madre o anche scheda video ma prima di continuare col video vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale attivando anche la campanella per ricevere tutte le notifiche così da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che usciranno sempre qui sul canale detto questo vi invito anche a iscrivervi al mio canale Telegram di offerte dove trovate le migliori offerte sul web per quanto riguarda hardware e videogiochi su Amazon e se si ha il canale delle offerte per quanto riguarda il nuovo e anche il canale offerte usate sono due canali distinti quindi se siete iscritti a uno e siete iscritti all'altro insomma da uno e dall'altro riceverete offerte del nuovo e dell'usato così non vi sbagliate e non avete il dubbio insomma se è un'offerta riguarda il nuovo o un'offerta riguarda l'usato perché sono due canali distinti detto questo io vi ricordo come sempre di seguirmi anche su Instagram e ora riprendiamo con questo video davvero quando mi sono messo a cercare informazioni riguardo a questa chiavetta insomma per qualcosa che potesse risolvere e magari come voi state adesso guardando questo video ero abbastanza scettico devo essere sincero perché dicevo strano insomma con una chiavetta del genere che poi costa così poco si riesca a risolvere un problema che di solito sembra davvero insormontabile ed è anche per questo che ho deciso di fare questo video per cercare di semplificarvi tutti i passaggi perché non è una procedura complicatissima certo non è neanche una roba che dite vabbè dai faccio così senza neanche guardare questo video e insomma lo faccio per conto mio no perché ci sono ecco alcune accortezze che ecco durante il corso di questo video ripeto andremo ad affrontare insomma vi serviranno secondo me per approcciarvi al meglio insomma alla riscrittura, al refresh del vostro BIOS della vostra scheda madre o scheda video ovviamente la prima cosa di cui avrete bisogno è questa chiavetta cioè la CH34-1A che è una chiavetta che appunto potete trovare benissimo in realtà anche su Amazon ma vi costa un pochino di più quindi vi lascio linkati qua sotto insomma i link da Aliexpress che comunque la spedizione è rapida intorno ai 14 giorni e la pagate mi pare intorno ai 6 euro perché questa chiavetta viene venduta e lì mi raccomando state attenti questo diciamo è il primo passo a cui stare attenti vi viene venduta anche così da sola il problema è che nel senso anche da sola così può essere utile nel caso in cui abbiate un BIOS sulla vostra scheda madre che sia removibile cosa che però non è così comune secondo me ai giorni nostri ho visto diverse schede madre che ce l'hanno anche di fascia magari alta però ormai schede madre che hanno parecchi anni sulle spalle e quindi ecco vi consiglio se avete bisogno ovviamente guardate anche il vostro caso però se avete un BIOS non removibile saldato sulla scheda madre dovete anche comprare fare attenzione che nell'inserzione siano inclusi anche questa prolunga con la mollettina ecco e magari anche qualche altro accessorio che potrebbe essere utile però sostanzialmente ecco per iscrivere un BIOS saldato vi basta ecco avere queste due cose ecco e siete già a posto ecco una volta arrivati a casa la prima cosa che dovrete fare sarà mettere insieme le due cose e anche qui diciamo potrebbe esserci un pochino di confusione perché in base al BIOS che avete e questa è la prima cosa che dovrete guardare effettivamente non tanto ecco intanto prima cosa identificare il BIOS ma dovete sapere che ha 4 pin da una parte 4 pin dall'altra e ci sono diversi chipettini che potrebbero assomigliare al BIOS però ecco se cercate su internet le varie sigle magari aiutatevi con una lente di ingrandimento o qualcosa dei vari chip che sembrano dei BIOS poi trovate ecco i vari modelli su internet e capite se si parla o meno di BIOS nel caso in cui lo troviate mi auguro di sì ovviamente dovete fare attenzione se il vostro BIOS è della serie 25 o della serie 24 credo che la maggior parte dei BIOS odierni almeno per le schede madri sia della serie 25 e perché? perché in realtà c'è una differenza perché se è della serie 25 dovrete andarlo a inserire nella parte sinistra della chiavetta cioè quella più vicina alla porta USB ecco e se è una serie 24 invece dovreste metterlo più lontano ecco dalla porta USB e in che senso va inserito ecco questa prolunga il pin numero 1 che insomma in questo accessorio vi viene data questo piccolo PCB insomma con l'attacco effettivamente per questa che c'è una scanalatura quindi la potete inserire solo in questo verso qua così il pin che è identificato come numero 1 sarà quello in alto a sinistra in alto a destra scusate ed è anche segnalato in realtà perché in basso a destra nella chiavetta c'è segnato appunto per i chip 25XX o 24XX che il pin numero 1 è quello col bollino bianco in alto a destra adesso starete vedendo insomma delle clip zoomate perché si farvelo vedere da qua è un po' più complicato però ecco una volta che avrete quindi inserito in questo modo la prolunga insomma col PCB andate ovviamente a chiudere e già qui siamo messi bene perché poi ecco il giamperino che sta messo qua lo dovete lasciare in ogni caso lì non ho mai sentito nessuno caduto cambiarlo normalmente per un BIOS va lasciato ecco in quella posizione e quindi siamo giunti alla parte del software perché appunto adesso dobbiamo ovviamente in base alla vostra scheda madre trovare il BIOS necessario per poi andarlo a flashare grazie a questa chiavetta programmatrice per fare questo ovviamente dovete andare sul sito della scheda madre in questione trovare anche l'ultimo BIOS ovviamente compatibile e dovrete però grazie a un software che lascerò linkato qui nella descrizione ovviamente software libero, gratuito, non a pagamento andare a trasformare il formato del BIOS soprattutto nel caso di schede madre ASUS come nel caso appunto che ho utilizzato io dovete andare a trasformare il formato del BIOS in formato .rom perché appunto nel caso di ASUS per esempio i BIOS vengono forniti in formato .cap che però non va bene ecco per essere scritto brutalmente con questa chiavetta e quindi ecco grazie a questo software è semplicissimo basta che caricate il BIOS che volete trasformare in formato .rom e lui in mezzo secondo vi fa ecco questa modifica quindi una volta ottenuto questo BIOS insomma in formato .rom siamo pronti a utilizzare il programmino vero e proprio e qui ce ne sono diversi in realtà quindi io ve ne linkerò uno principalmente che è quello che ho usato io che vi servirà effettivamente per andare a scrivere e volendo anche a leggere il contenuto del vostro BIOS tramite ripeto l'utilizzo ecco di questa pinzetta ma un altro accorgimento per quanto riguarda la fase di preparazione è il seguente perché diciamo vi ho avuto anche un po' di dubbi per quanto riguarda la scheda madre cioè la devo tenere attaccata alla corrente? devo metterci una CPU, della RAM? cosa devo fare? ecco adesso cercherò di rispondervi e diciamo di illustrarvi il caso in cui prendeva bene sempre perché in alcuni casi alcune schede madri riusciranno a flashare il BIOS anche senza la corrente, anche senza CPU e tutto quanto però in altri casi appunto ci sarà bisogno magari alcuni riescono a farlo anche con la CPU messa sopra altri invece no vi dico come ho fatto io appunto ho messo questa scheda madre sopra un pezzo di cartone un'altra scatola di un'altra scheda madre e ho attaccato l'alimentazione 24 pin e 8 pin insomma per la CPU ho acceso l'alimentatore ma non ho fatto il cortocircuito per accendere il computer quindi ho soltanto dato corrente ma non ho acceso il computer ovviamente e ho ottenuto la CPU staccata dal socket non l'ho ottenuta dentro il socket ovviamente ho tolto anche la RAM e una cosa però importante ho ottenuto la batteria del BIOS attaccata così diciamo a me ha funzionato magari a voi vi va anche con la RAM, la CPU insomma tutto quanto montato sopra però ecco io ho preferito smontare praticamente tutto e fare il caso in cui ecco diciamo va funziona praticamente sempre che sarebbe questo quindi senza CPU con la corrente e con la batteria del BIOS attaccata ecco un altro punto fondamentale con anche dei consigli arrivati a questo punto voi se avete una scheda madre vi consiglio intanto di toglierla dal computer, dal case in cui l'avete messa perché il cavo non è così lungo io vi consiglio comunque di utilizzare per esempio che ne so un computer portatile quindi magari con la porta laterale riuscite a collegarla qui e poi con la scheda madre tolta dal PC messa in piano magari su un pezzo di cartone qualcosa così non bucate il tavolo e andate a collegare poi la presina sopra il BIOS e qui dovete fare attenzione veramente a tante cose perché in primis dovrete scaricare i driver per questa chiavetta e dove li trovate in realtà nel programma che vi lascerò linkato qua sotto che è quello ripeto che vi serve per scrivere insomma il BIOS all'interno della scheda madre trovate una cartellina con scritto driver quindi mi raccomando installateli perché se no non vi funzionerà e vi darà errore continuamente io all'inizio infatti dicevo ma cos'ha questa cosa che non funziona era perché ci sono da installare i driver però ho davvero visto che in giro insomma non è che c'è scritto proprio chiaramente che c'è da fare questa cosa sembra quasi plug and play ma non lo è ripeto perché bisogna ecco prima installare questi driver poi una volta fatto questo vi consiglio di inserire questa chiavetta in una porta USB del portatile del vostro pc portatile o quello che è che sia almeno 3.0 per questioni di alimentazione perché appunto la porta USB 3.0 fornisce un'alimentazione di solito un po' più sostenuta ecco rispetto alle 2.0 nel caso appunto questa abbia bisogno di più corrente e l'altra cosa ecco quando poi andate avete connesso questa chiavetta al vostro pc e avete attaccato la molletta al BIOS state attenti al led di accensione perché il led di accensione una volta che avrete collegato questa al pc diventerà rosso ma se voi collegate poi questa mollettina nel verso opposto lo venite a sapere subito perché il led diciamo da colore rosso acceso diciamo abbasserà la luminosità del led diciamo diventerà rosso ma molto fioco e quello vuol dire che c'è un cortocircuito cioè avete collegato la molletta nel verso opposto quindi mi raccomando giratela e ecco fate attenzione anche qui aiutatevi ovviamente state in un posto ben illuminato usate una luce ecco magari fate il lavoro anche con qualcun altro qualche vostro amico così e dovete vedere appunto che ogni pin della molletta ovviamente combaci con il pin esatto e non è una cosa proprio semplicissima si non è un lavoro di altissima imprecisione però ecco fateci dateci un'occhiata ovviamente non attaccate così e poi insomma fate partire perché sennò ovviamente non funzionerà però ecco controllate mi raccomando che sia ben collegato il tutto e una volta che è tutto a posto tutto collegato i driver sono installati potrete finalmente andare a leggere il contenuto del vostro BIOS e anche ovviamente a scriverlo e quindi a riflessarlo i passaggi che dovrete fare sono abbastanza semplici una volta collegato tutto questo perché dovrete caricare sostanzialmente il BIOS nel programma e quindi avrete già in precedenza trasformato il BIOS in formato .rom quindi lo caricate all'interno del programma e poi fate partire la procedura di cancellazione dei dati all'interno del BIOS attuale quindi magari un BIOS corrotto quello che è e di riscrittura e qui insomma trovate l'opzione in alto più o meno al centro della schermata del programma una volta fatto questo dovrete aspettare che la pennetta scriva il tutto ma poi vi dirà appunto se è andata a buon fine vi dirà appunto completato a posto e a quel punto cosa dovrete fare dovrete staccare prima la chiavetta e poi la corrente dell'alimentatore che comunque dà corrente alla scheda madre e poi dovrete sollevare aprire questa la molletta e tirarla via una volta fatto questo togliete anche la batteria dalla scheda madre fate un clear MOS e ovviamente poi da qua rimettete su tutto insieme e dovreste aver fatto per quanto riguarda una scheda madre e così finalmente siamo riusciti a risistemare la nostra scheda madre io davvero non ci speravo quasi però veramente funziona quindi io ve lo consiglio davvero questo metodo se avete una scheda madre o anche una scheda video su cui magari avete sbagliato a flashare il BIOS e vi sia insomma corrotta questa potrebbe essere davvero un'ottima alternativa piuttosto che fare il reso o appunto comprarne un'altra e buttarla via ovviamente un altro utilizzo di questa chiavetta è sempre quello di flashare il BIOS per le schede madri ma soprattutto se avete per esempio una scheda madre di generazione precedente e volete andare a mettere una CPU di generazione successiva faccio l'esempio tipo le schede madri Z690 che sono nate per i processori Intel di dodicesima generazione ovviamente se non avete il BIOS aggiornato e andate a mettere una CPU di tredicesima generazione lì sopra insomma non funzionerà vedete schermo nero e a meno che nella scheda madre non abbia una porta con il Q flash che a quel punto ecco è più o meno una cosa simile che andate a fare quindi date corrente la scheda madre ma in quel caso usate una chiavetta USB ma non dovesse avere questa funzionalità ecco una chiavetta del genere può essere utile anche in quel caso perché andrete a flashare il BIOS direttamente sulla scheda madre ovviamente mettendo un BIOS che è compatibile che rende poi compatibile la CPU di generazione successiva e quindi anche in questo caso andate a risolvere senza dover magari fare il reso o appunto darvi alla scheda madre ma arrivati a questo punto del video ragazzi io non posso fra l'altro che consigliarvi due video che se non avete visto vi invito a guardare il primo è quello su come pulire le schede video quindi sia schede video magari tenute abbastanza bene ma che hanno bisogno di una rinfrescata sia schede video tenute veramente malissimo quindi ecco vi consiglio di vederlo se appunto avete un caso del genere e l'altro video che vi invito a guardare invece riguarda quando ho assemblato le SR Meter di MWV Blog che vi serve insomma per scoprire se i condensatori elettrolitici dei vostri circuiti sono insomma si sono rovinati perché ovviamente va a misurare la resistenza in serie ai condensatori detto questo io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci vediamo alla prossima ciao a tutti ragazzi